forse da voglia ok buonasera a tutti buonasera a tutti ciao a tutti allora la fai partire la litta sei tu la vado la vado identifying potential opponents il my rank non me lo fa vedere va bene io ti vedo però sempre bronzo esattamente come me silver 2 te vedevo bronzo poi adesso però sei diventata silver anche con lo stesso iconcino mio mi ha promosso subito insta promosso te lo meriti sarà per quello eh certo sarà quello si 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 ad onore mi ha dato la mezzagna si si ci siamo arrivati diego vedi sono bravi eh però perchè non compare la chat a video porco cane non ho ancora bene capita sta chat a video che ogni tanto comparo ogni tanto gli gira il cazzo e fa il cazzo che vuole vabbè adesso ti vedo giusta però ti vedevo liconcino bronze giusta come va a me bene a isa meglio ancora vero confermo e mi sa che sta partita le prendiamo ho paura di sì e te invece come va diego bello però scusa ho notato che il primo della loro squadra nel cog e primo zero kill sto parlando esattamente la stessa cosa ok io sono riuscita ad entrare io non ancora direi qua ce n'è una terra ce n'è una terra stavo a morì ok io sono in gioco merda e vabbè ciao buongiorno ripassi è arrivato nel momento dai ha vinto lui un po' giù di morale che è successo il fatto che buffering oh che palle mi dispiace ancora per sta merda di buffering eh dai c'è ancora sto beat star lì esattamente nel senso punto in cui siamo morti entrando non più eh vabbè sì me ne sono trovati tre dispiace ma l'esito era deciso già dall'inizio qualcuno se la ride in chat ok eh non senti l'audio del gioco con la chat del gioco no o meglio no non la sento perchè ce l'ho sulla tv e ho lasciato la tv molto molto bassa ah buon arrivano in tanti dal drop no l'ho difeso l'ho difeso quello e non riesco a dirlo ragazzi non so cosa dirvi drop shot una lettera per volta non lo so ma dai non puoi sparare nel coso coso cos'è nel spawn point è l'ulz non non si 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 ma tu vabbè uno l'ho preso accidenti ah ah qui l'ho preso non è nulla No, no, non lo vedo! Non lo vedo, non lo vedo. Non lo vedo, non lo vedo. Non lo vedo, è come si è bloccato su questa gara. Pesi e anche una doccia più o meno rilassante. E non ho aiutato? E succede, fine scuola, fine superiori, ti tocca. Ci siamo passati tutti. Eh sì. Quindi... Mi dispiace, ma... Non ci sono suggerimenti. Resisti, tieni duro. Sappi che peggiorerà. No, hanno l'arco. Intanto se vedi una granata piazzata vicino alle grane è poi mia. L'ho vista. Quello con l'arco è appena morto. Molto bene. Ed è mio. Soprattutto. Ne ho tre però lì davanti. Se sei tu, non lo sei tu. Eh, sto arrivando. No, ma c'è anche un'altra piazzata. Sto ad arrivare. Eh, ha vinto lui. Ha vinto lui. Wiii! Ma madonna! Che bordello ha fatto? La madonna! Siamo dall'arco. Ah, è del fine. Eh... Ehi! Ah! Ehi! 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 sono dall'arco, credo che lo stiano aspettando eh io sono vicino al loro spawn lulz, dove sei gatti già due e questo sta facendo il resto mio arco mio anche le granate sono nostre, lo so visto bene le granate non le ho prese io quindi no no, le ha prese un tizio davanti a me e vabbè ma pezzi di cogo ovunque quello lì ho quattro colpi di gnesher, sono fottuto il mio problema più principale è che tutto dove vado mi li uccidono davanti faccio un sacco di assistenza, quello si si ma ne manca uno, ho due colpi, ce la farò? dai, per te ne serve uno per ucciderlo fatto c'era una grazia che faceva un giveaway per i suoi 1800 seguaci, eravamo tipo 20 persone, indovina chi ha vinto? non tu giusto per tirare a caso diciassette obs che cazzo lagga così perde frame a caso ovviamente non io, eh infatti vedi che alla fine ci ho azzeccato vediamo se almeno con la luce sei fortunato non neanche lì, eh che cazzo che cazzo che cazzo oh, attenzione, attenzione cosa? eh? attenzione, attenzione, cosa? inoreader mi ha appena mandato un'email che è pronta l'app per android versione 4.1 inoreader ok evidentemente hanno fatto una versione nuova che ne so ecco il mio regalo, schiantarmi contro un asteroide non sei che fortunato che bello, eh vabbè, due contro tre vabbè, qua non si può fare altrimenti è già tanto che non ci ha messo in due squadre diverse va già bene vai swarm corazzata vai grenader conto su di te io vedo già i grandi cazzi che arrivano ehm, anch'io ma vabbè le grani sono mie quanto l'ho tirata lontana? però non l'ho preso, l'Ulz due ne hai preso con una sola? no, magari puro culo che questo ha scavalcato nel momento peggiore per lui e la madonna quanto mi ha atterrato aia è disponibile un aggiornamento in inglese in cirillico era un bot premi A per scegliere inglese premi B per scegliere cirillico premi X per scegliere russo che sarebbe cirillico che sarebbe cirillico sono un crattino che differenza c'è eh no, esatto no, è stato bellissimo perché quel bot via ha cominciato a fare un pugno e poi mi ha buttato per terra ma eh, vabbè che mi ha ucciso alla fine complimenti per aver scelto cirillico sì, qualcuno fa così ma Isa ce la puoi fare contro quel bot cattivissimo e lo seguo anche, va bene? problems? ok che è venuto avanti eh sì oh, dovevo dirlo anche a me stesso perché ci sono andato in faccia oh, è il drop shot eh sì, eh sì era Oscar mi ha segato in due su Reddit c'è già le leggende di Oscar che raccontano che riesce a vincere intere partite da solo sì, è il nuovo Chuck Norris eh, quasi Oscar Norris vabbè, siamo 1 a 10 ragazzi io sono morto un botto la troll up uh, furco, c'hanno un cecchino occhio ma dai, mi stavo muovendo a... a l'Ulz però uno l'ho preso l'Ulz l'hai fatto a prenderlo uno? ah, ne avevi ancora uno in mano? sì, sì, ne avevo due però io non so come va a voi bufferava quando... oh, cazzo a me va benissimo ehi uh, Isa va ancora meglio ieri era il suo compleanno l'abbiamo festeggiato oggi eh, Isa ne hai una a sinistra merda ne avevi una a sinistra eh, dicevo oggi abbiamo festeggiato il suo compleanno a pranzo e gli è arrivato un regalo che sta usando in questo momento ne ha Isa? sì sto usando molto male visto che sono 1-4 ma sì anche se in ritardo figurati non l'abbiamo neanche detto effettivamente sì, non ci ho pensato in effetti di pubblicarlo grazie e comunque segri gli auguri sono ben accetti sempre mi sta laggando un pochettino te non so no direttamente anche tutto il resto non solo il pad e la madonna ah dai hai visto che siamo in tema di auguri visto che siamo in tema di auguri buon non compleanno per oggi è questo secondo regalo perché prima ha fatto una roulette come regalo si è schiantato adesso ha fatto impaurire l'asteroide a questo ok fai tutto tu o chiunque sia se al momento sono solo io che leggo la chat avendo comunque il secondo monitor comodo ne ho due davanti io e diventeranno presto quattro andiamo via di qui tipo perché nel fumoso non si vede un cazzo mercoledì lui ci ha visto benissimo madonna un pad è una confezione di tè alla pesca sì hai visto che siamo in tema di auguri buon non compleanno per oggi è questo secondo regalo perché prima ha fatto una roulette come regalo si è schiantato adesso ha fatto impaurire l'asteroide ah sì no è interessante scusate io non sto leggendo la chat ah questo ok fai tutto tu o chiunque sia se al momento sono solo io che leggo la chat avendo comunque il secondo monitor comodo ne ho due davanti io e diventeranno presto quattro andiamo via di qui tipo e ne aveva affanculo ce n'era uno dal boomshot abbiamo già finito di respawn e vai che bello merda merda Isa porti gli occhiali? sì sì porto gli occhiali cos'è una roba indovina chi indovina chi su su twitch se si fatti installare l'app di twitch su una lente quanto scommetti che vado a finire male? no mi dispiace non si scommette sulle cose certe eh eh beccatevi i fumogeni o basterdi eh eh sono spaventatissimi invidia grande ritta eh eh poi basta poi basta eh vabbè dai però cioè si sono caccati sotto eh 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 dite che sto esagerando con le cazzate intendo ma perché se ti da una mano anche solo rilassarti un po' dopo tutto il bordello che hai ma chi se ne frega tanto qua e quanti hanno già votato? ma poi oltretutto come se noi non sparassimo cazzate senza te vai tranquillo che è il minore dei problemi damn sto bevendo un sorso di aranciata erano già 4-2-2 come voti ok votiamo quella che vince tanto ormai vedo che tu salti proprio sulla salti proprio sulla barca eh tanto ormai ormai c'era poco da votare quindi tra parentesi per far stare quella è gigantesca la Xbox One ho dovuto spostare e riorganizzare tutta la mia scrivania che cazzo è successo che tabannata ma voi potete io magari un po' meno e poi mi sa che il bot si è incazzato un pochino facciamo una cosa aspetta Spamfilters cosa è successo eh no ha fatto un po' di bordello qualcuno scrive parole che non deve eh mi dispiace però quello lo lascio almeno quelle mi dispiace un minimo l'ho tirata la minchia la minchia l'ho preso merda Isa svegliati apri gli occhietti l'ho dietro l'angolo e l'ho aspettato anche porca paletta ma è che ca... eh non va fancu ma era un modo di dire botte god damn e ho ancora una legge la cazzo ok eeeh Aya aia potrebbe essere una donna crispa senseless e senza sensi di ragno poverino ok uno è andato stavo per andare ad aiutare un attimo dei tizi ma hanno già fatto da solo si spider senseless adesso è anche senza corpeless oh questo l'ho ucciso mi ha tirato giù però grazie Oscar ti mancava il crispa ah cazzo non sono riuscito ad aiutarlo per tempo col botte eeeh uuuu anche noi mi mancava il crispa che mi sono posto la domanda chi mi ha chiamato è vero ah già è vero che si I see you I see you come on ah ma andai voglio farlo e che burdel oh la lì ma mi sembra il caso ha preso il boom l'ha già usato contro di me più che altro splattando mezzo suo compagno che era già morto però oh minchia ma mentre ci muoro ok wow forse l'ha finita non è detta ce l'ho fatta sono ho visto sì no non fanno già più Ahia Però l'ho fatto un trappolone Chissà se funzionerà Sì ho visto Dubito funzionerà Per vedere così Mi sa che no Magari hai il culo e uno dice Mi faccio il giro Guarda in effetti ce n'è uno dalle granate Spero che vada su dal tuo trappolone Eh mi sa che l'ha fatta saltare in aria Oh merda Oh merda E vai Ma ha dipinto la mappa col suo Ma dai Gli fa l'esecuzione con un fumo generale E poi muore Perché è un cretino Esatto Sei un pirla Se mi senti La prossima volta Fanno se sei l'ultima Non se c'è ancora gente Soprattutto se ce l'hai lì a due passi Esatto Cretino Ti sei comportato stra bene Però Eh Eh Che dici Il round begins in Ok Vedevo ancora il countdown Del round di prima No vabbè Mi è E granata minchia lì che mi sa che E invece Mi fa di nuovo Aiuto Aiuto Mi fa Ok Boomshot mio Ottimo Ehi il Mary Hai ucciso col boomshot uno più lontano di 100 metri Dov'è 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 E mica te lo chiedo per fare fuffa La fuffa la faccio dopo Da solo Per i cazzini Ti vedeva il piedino Ti ha splattato dal piedino Maledetto piedino Come ha fatto Ma non lo so Perché mi è esplosa la testa Ma non il piedino Fai stesso Eh ma Piede Piedino sono collegato Piede e piedino Dio santo Eh vaffanculo Mi ha segato Esatto È per terra Ma non lo becco Eh l'ha rialzato Sono in tre lì E anche a te Ah quattro Sto facendo cagliare questo giro Sono quattro qua davanti Almeno Sono tanti qui davanti Ce n'è qualcuno E hanno piazzato una grana Da qualche parte L'ho sentita Ma non ti so dire dove Ma muori E che cacca Ho esagerato Ho esagerato Grazie Ok uno l'ho ucciso Uno l'ho ucciso Uno l'ho ucciso Tanto ero morto In ogni caso Quindi 67 di ping 1 mega e 7 05 Di upload Giusto così per fare Spit test Eh ma E dicevi che comunque Fino a poco tempo fa Avevi 5 e 6 mega No? Oh yeah Che pacco Siamo già Siamo già Siamo già Spawns Ce ne sono tre Qua davanti Dalle grane Per ora Le grane L'ho prese Ma non assicuro Nulla Ok quello l'ho fatto Un suicidio Voglio prendergli il boom Immediatamente Ma non è morto Io si Ce n'è uno del boom Ma non al boom Che non era quello Che intendevo io Quindi probabilmente Ce ne sono due E uno è morto però L'ulz Non l'ho ancora ucciso E' un mesetto fa Che 3 e 9 Che schifio Dai Chi 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 Guarda Vabbè Uno l'ho preso E' ancora farlo 5 volte Col fumogeno sarà dura E' un po' Un caglio Anche perché Fumogeno fa veramente Fumogeno Non vedi un qua Sì Fumogeno Uber fumogeno Perché E' un po' E' un altro E' un cretino Che si è fermato lì Vabbè Però mi sa che qualcuno Salta per aria O quasi E invece Lo fa E' un'unica Bronza Sei l'unica Bronza Vai di Arbor Io tiro la casa ormai Intanto non cambia nulla Quindi Se l'avessi saputo Prima che la pensione Sarebbe stata una merda Avrei chiamato subito La seconda settimana Eh ma ste cose Doresti fare direttamente Il giorno dopo Eh fatti Perché da prima avevo altri Proble Altri problemi Ah ok Buona sapersi Good luck soldier Infatti giusto per dire Tutte le due connessioni Wireless Ho preso La precedente E l'attuale Mi hanno dato 15 giorni Di Di testing Per vedere Se c'erano problemi Se non andavo avanti Se c'erano problemi di segnale Cazzi e mazzi E non c'era Minimo Minimo problema Peccato che i problemi Con la linea precedente Che mi ha fatto cambiare Con l'attuale E' cominciato Un anno dopo Occhio Perché c'è già un sacco di gente Eh ho visto Ce ne è ancora uno Ma non ti so dire dove E' verso il loro spawn Oltre ai cassoni Proprio lì Era proprio lì L'hai trovato veloce Forse non nel modo Che speravi di trovarlo Ma E' pur sempre un modo E' pur sempre un modo Oh le granate ci sono ancora Funziona anche Oh che granata di merda Che ho tirato Oh ma cazzo In compreso Non ho preso un altro Rules Hai pagato penale Questa legislazione Che in caso di recess Ti Eh la Sì Ho pagato 48 euro di penale Ma per stare nella merda Così Ho cambiato Chi se ne frega Quando è Veramente una roba indecente E hai già trovato Il rimpiazzo Ovviamente Che cazzo devi fare Devi restare lì Appenare E bestemmiare Come un turco E si conferma I turchi bestemmiano parecchio Almeno gli autisti I turchi Le altre persone Turche normale Non lo so Ma i turchi Minchia Sono cattivissimi Ah volevo fargli il giro A questo qua Sì 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 Non che i russi C'è anche gli autisti russi Che mi hanno detto Sika Bliate in faccia No merda Non a me ma Eh intanto sono morto Devo dire che il Sika Bliate In russo Lo tirano spesso Sai Oh guarda Ma vaffan Come sta facendo Sta rimbalzando Con un non so cosa Perché non ho mai sentito Il bestemmia come un veneto Ma un veneto Lo conosco In effetti Anche i veneti Devo dire Che si difendono Tutta Rece Ok non spawno più Dagliele Isa È tutto tuo quello No un'altra ancora Un'altra ancora Che conosciamo Che conosciamo Da vari anni O mai Almeno io Poi presumo Che Isa conosce Altri veneti Per via di Lucchino Sì Potessero pagare Un euro di tasse Per ogni bestemmia tirato In veneto Risannerebbe Nel veneto Della Grecia Da pochi anni Anni Secondo me In due settimane Fai tutto Merda Secondo me Eh i veneti Devo mettere così Ci danno parecchio Collega di lavoro No amico conosciuto Anche in gioco Ma tipo Anni 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 Però adesso Ti sei fatto sgamare Cioè Eh Ha finito Il bon crop Lili Eh ma farsi sgamare Così tirando a caso Non è proprio Un Eh hai ragione Hai ragione La burocrazia è lunga Per quello degli anni Ah ok Ah una Accidenti Uh Peccato Si Colpi lì Lì ha tirati Completamente Dall'altra parte Forse dovrei stare zitto Visto che ho fatto Uno cinque Sono ultimo Siamo zitti va Eh sono ultimo Sta zitto va Non posso dire nulla Non c'è nessuno che parla Eh C'era Lucchino Che ci stava dando Dei nambi Perché non Perché dobbiamo Andare in chat Di gioco Oh che rompi coglioni Anche Lucchino Gli devi comprare Sino Xbox One E poi Stanno andando Tutti Giù dalle grane L'arco ce l'ho io L'arco ce l'ho io Ho anche le grane Sì Che muoro Però tu vieni con me Avevo la granata in mano Quanto pare puoi ancora farti esplodere Se ti atterri E la granata in mano Sì Sì Me l'ha fatto uno Non mi ha ucciso Ma me l'ha fatto Cinquecento giga Sì Perché tanto penso Ti basti no Isa Sì beh Merda Mi hanno fregato Mi hanno fregato Pensavo di fregarlo E invece E comunque Isa Peggio Puoi sempre aggiungere Un harddisk esterno E utilizzarlo Per quello Ok Ma va fancu Ma c'è anche la La xbox da un terra Semplicemente costava di più E già Isa Pensavo mi uccidesse Per avergli preso Un xbox da cinquecento Figurati se li prendeva Ancora con la dantera Eh non tipo pc Ma quasi Ma cazzo Aveva ancora lo spawn protection Questo Cazzo Sono andato troppo avanti Colpa mia Non le piace la No 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 Anzi Però Non voleva La voleva ma non voleva Aia bastardo La voleva ma non la voleva comprare Ma la voleva E quindi Regalo E l'Ulz Ovviamente Giusto? Beh anche io preferisco il pc Quindi se deve fare il mio regalo Il compleanno Fammi un pc Eh il pc Non dico che gliel'ho fatto Ma Eh Una cifra l'avevo messa Comunque anche al suo pc Perchè par Eh? E l'egru Che cazzo Da fuc Intanto quello si ricollega Ma che cazzo dici? Lisa mi senti? Merda adesso devo fare Merda Un momento solo eh Perché non si ricollega? Vabbè Vabbè Mentre quello finisce Lisa mi senti? Lisa Abbandona Abbandona il gruppo Crea gruppo Più Lui Gruppo Problemi? Sì Non ho ben capito Che cazzo è successo E questo muore male Ah non l'ho ancora accettato Partecipa al gruppo Perfetto Eh ho visto 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 Isa mi senti? Isa mi senti? Isa Perchè non mi prende più il microfono Sto pirla di Momento eh Faccio una piccola cosa Aspettate Ok 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 un po' di paciocchi non previsti svegliati però dai ok tragruppo ok connessione in corso si ma lo sto stando io non riesco a collegarmi a una cosa che sto stando io prova prova ma provo a invitarla va vediamo cosa fa non posso invitarla al gruppo ok gruppo invito inviato colleghiamoci intanto che sarà partita la cosa e si vabbè sono rimasto a fk per una vita però non sono mai morto lulz partecipo al gruppo mi senti? bene ecco però tutto qua c'è qualche strong ah no tu sei no dovrei provare a riviare un attimo tutta la poi me l'ho fatta che chezza orco giud orco gears eh al diavolo cazzo non è che ci sono problemi su live problemi tecnici scusate ah no eh so c'è del gioco o altro ooooh ci sono problemi tecnici proprio da mezz'ora segna ok va bene intanto questo lo stanno cartellando poverino poverino poco giuda ah io non ho giocato mezza partita comunque ho fatto più chi ah ok è uscita così ok si l'avevo scritto partita non vabbè cosa posso fare per risolvere? un momento posso provare posso provare abbandona gruppo ricolleghiamoci in streaming non sentirò però poi quando arrivano i tantini nuovi follower e non sentirò notifiche dal pc provo a collegarlo direttamente al pad vediamo cos'è prova prova no 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 calma tra gruppo connessione in co eh mi sa che ci sono i ciocchi goal group ci sono i ciocchi goal group prova 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 infatti non mi si illumina dovrebbe illuminarsi qua prova 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 che vale sono andato in ciocchi che palle abbandona gruppo a sto punto lo tengo sul sul pc che era gruppo che palle però un giorno l'altro ce la farà collegarsi sì lo so che non c'è nessuno non cagli il cazzo se è collegato aspetta quanto lungo il cavo voilà sei più tranquillo così non rompi le balle eh va fanculo anche lui si mette questo qua questo qua non mi serve più visto che tanto lì sta ancora caricando scusate è vero gruppo inviato di production streaming vabbè vediamo poi se eh vabbè problemi tecnici non dipendono da noi map selected l'oscurità prova 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 non funziona un ca vabbè senti quando funzionerà funzionerà mi dispiace che non sentirete più isa per un problema tecnico non mio perché ah no come non sono entrato io ancora ma what io sono in gioco ma non posso giocare che cazzo da fuck mi dice che sono in gioco e non ci sono hai mai visto Death Note due volte ma mi piacerebbe giocare no eh vabbè intanto vediamo se hanno soluzioni addio santo non posso neanche giocare disurizza dettagli fammi vedere i dettagli testa di ciao elite io l'ho già visto per la terza volta buonasera 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 vabbè tanto se sapevi già cosa cosa c'era ma sta andando a puttane tutto lì c'è tutto xbox live praticamente c'è non posso giocare mi vede in gioco ma non posso giocare che cazzo sta succedendo che cazzo sta succedendo io santo intanto guardo solo una cosa prova 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 col cazzo se posso essere sincera solo tre volte se posso essere sincera solo adesso ho capito lo scontro finale tra light e near intanto c'era che cazzo stai facendo che mi sono nell'elenco ma non ci sono una persona molto impegnata accidenti pensavo al suicidio qua veramente proprio qui tu sei singolo come credi che sei non lo sai se sei scusate 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 la mappa sotto scusate non sono morto io che cazzo adesso sto ecco adesso si che cazzo adesso si è un'altra storia si gioca meglio prima era uno spettatore non pagante non voluto non volente quando l'internet andava a merda ho visto sette volte stagione serie 1 stagione 1 e 4-5 la serie stagione 2 io quando non so cosa guardare mi guardo red vs blu così a cazzo se volete c'è anche su youtube o comunque gratis sul loro sul sito della rooster thief era meglio che uno spettatore non volente non pagante non voluto obs giusti silenzio non laggare per favore grandissimo chi mi ha aiutato lulz lulz dammi l'arco ma come è uscito da lì non ancora ma secondo me non tardo a finirlo sai lulz perché ieri non avevo ma quanto sta laggando ma sta laggando o è solo l'obs che sta facendo merda perché vedo che sta prendendo frame a manetta due volte l'ho finito madonna ma secondo me non tardo si lagga che vabbè ma per motivi miei mettila così ma sta perdendo veramente tanti frame c'è qualcosa che non quadra non ho la minima delle perché quanti pacchetti sto perdendo madonna non quadra un cazzo e non soprattutto non cosa un cazzo io provo a riavviare tutto torniamo tra 5 minuti datemi 5 minuti che riavvio tutto sperando che funzioni riavvio Xbox PC cazzi e mazzi quindi datemi un momento e ci sarò 5 minuti e ci sarò e ci sarò